Questi italiani non sanno niente e non capiscono niente, perché loro hanno fatto arrivare la censura a un livello così terrificante che non ricordo un momento simile prima d'ora. Il fascismo non tollera alcuna critica ed è da qui che parte la censura. Non c'è spazio per il pensiero critico e non è ammesso avere dei dubbi.